il graffiti tour che si è svolto a caserta ha avuto come partenza ciccio bike and tour in via vico 73 e ha visto coinvolti una decina di cicloturisti pronti ad esplorare la città alla ricerca e alla scoperta di vere e proprie opere d'arte guida speciale francesco paladino proprio lui il nome storico della street art casertana come è andata e soprattutto come si è svolto è andata abbastanza bene le persone si sono divertite tantissimo è stato un bel momento di aggregazione si è svolto abbiamo fatto un giro praticamente per una serie di tappe fondamentali per caserta dal punto di vista della nascita del fenomeno del graffidismo su caserta quindi abbiamo ripercorso un po' le zone storiche quelle che hanno visto negli anni ormai sono 35 anni che a caserta si fanno i graffiti hanno visto la nascita appunto del fenomeno dei graffiti attraverso l'aggregazione di ragazzi di caserta della provincia e come abbiamo potuto notare fatto vedere anche le persone che hanno fatto parte del tour da tutta Italia venivano artisti da tutta Italia in maniera totalmente autonoma ci si organizzava scrivendosi al tempo non c'erano ovviamente i social network quindi era un po' più leggermente più difficile però ci si organizzava e abbiamo avuto artisti che sono venuti da tutta Italia anche da tutta Europa quindi abbiamo ripercorso un po' tutte quante le tappe di questo fenomeno lungo questi 35 anni di attività e l'utilizzo delle biciclette diciamo è stato da un certo punto di vista positivo perché ci ha permesso non solo di scoprire anche zone di caserta che effettivamente non sono conosciute ai più perché sono magari districate fra stradine che solitamente non vengono visitate e poi abbiamo fatto vedere alle persone effettivamente tutto il lavoro che c'è dietro la costruzione dei graffiti perché comunque sono lavori che vengono studiati a tavolino perché c'è un percorso dietro il disegno, la costruzione di tutto quanto l'insieme dell'opera e poi le fasi di realizzazione quindi hanno potuto capire nel corso degli anni come si sono un po' evolute tutte queste fasi e qual è stato anche il percorso dei singoli artisti che abbiamo potuto far vedere nella provincia di Caserta Quindi la novità è che venivano da tutta Italia? Anche oltre? Venivano da tutta Italia, abbiamo praticamente quasi tutte le regioni d'Italia, oltre anche a paesi esteri che sono venuti dalla Germania, sono venuti dal Belgio, anche dall'Inghilterra quindi comunque è stato un bel momento di aggregazione anche internazionale effettivamente Una iniziativa da ripetersi? Assolutamente, sì, assolutamente da ripetersi, sono 35 anni che facciamo questo lavoro, continueremo a farlo perché è una passione Grazie a tutti